Ora si deve fare il filmato, rilassati Max! Ecco Max che si prepara per l'uscita sulla neve, Max dai un sorriso per la televisione, un sorriso, saluta la mamma, saluta la mamma, saluta! E adesso devo fare il video per il sito? Ma che tu hai fatto la foto per il sito? E qua qua? Sì adesso! E nevica! non, non non, 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 non non Cazzo, non l'ho visto male. Cazzo, non l'ho visto male, non l'ho visto male, non l'ho visto male. Cazzo, 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 non l'ho visto male.